Vedi quelli in macchina, ha rovinato un sacco di ragazzini, smercia droga nelle scuole. Dobbiamo lasciarlo andare, ma forse non farà molta strada. Sta a sentire Chimenez, ora noi gli diamo via libera, facciamo in modo che si sbagli. Quando ti passa vicino, lo blocchi e gli spari, tre colpi. Ci deciso, sfondagli lo stomaco e spara dritto, morirà di sanguato in pochi secondi. Per il verbale non temere, ucciso durante un tentativo di fuoco.